Buonasera a tutti, benvenuti nella sede della Fondazione del Corriere della Sera. Un saluto al Presidente Marchetti che ci ospita. Questa è la casa del Corriere della Sera e io sono molto fiero del ruolo che mi hai stato affidato proprio perché lavorando qui da 38 anni penso che questi incontri siano una delle grandi occasioni in cui il Corriere della Sera come massimo quotidiano italiano può incontrare diversi mondi. In questo caso quest'oggi affronteremo il tema delle mostre con questo libro Einaudi di Tommaso Montanari che è alla mia destra e Vincenzo Trione che è alla mia sinistra. Non c'è bisogno, credo, voi siete qui quindi è inutile che vi stia a elencare una biografia dei nostri due interlocutori come loro stessi nella introduzione raccontano, vengono da storie professionali diverse con interessi diversi. Montanari è uno storico dell'arte moderna e insegna la Federico II di Napoli. Trione è in casa sua perché collabora al Corriere della Sera, è una firma che conoscete tutti, vi chiedo scusa ma l'aria condizionata dei treni è terribile, è un contemporaneista ed è attivo qui alla Iulm di Milano, però per raccontare brevissimamente la genesi di questo libro si sono incontrati nei meandri del Padiglione Italia della Biennale di Venezia nel 2015 curata da Trione dove hanno trovato un idem sentire delle passioni comuni e dell'idiosincrasia altri 80 comuni e che hanno trovato corpo in questo libro composto da sei capitoli salomonicamente divisi in due, tre e ciascuno. E quando parleremo di questo libro io non dirò questo capitolo è di Trione e quest'altro di Montanari perché è un libro unitario e se le domande saranno rivolte genericamente ad entrambi. Questo libro è inequivoco, porta immediatamente in media stress nel cuore del problema, il titolo è Contro le mostre senza sì e senza ma e l'incipit di questa bellissima copertina in Audi ci spiega un sistema di società commerciali, curatori seriali, assessori senza bussola e direttori di musei asserviti alla politica sforna a getto continuo mostre di cassetta, culturalmente irrilevanti e pericolose per le opere. È ora di sviluppare anticorpi intellettuali, ricominciare a fare mostre serie e riscoprire il territorio italiano. Io farò alcune domande che nascono dalla lettura di questo libro e che risentono del fatto che io non sono assolutamente né un cattedratico né un critico, sono un cronista, da cronista o un approccio che probabilmente è leggermente diverso, meno forte, meno ostile e quindi grazie a questo hanno avuto la cortesia di chiamarmi proprio per avere una voce che non fosse una specie, sì, per non fare una messa cantata come si dice in questi casi. Doveva essere con stagione anche Lea Vergine che come voi sapete è una grandissima critica storica dell'arte contemporanea e appartiene di diritto alla grande stagione che nel secondo novecento ha dato i nomi migliori nella comprensione soprattutto dell'arte contemporanea. Purtroppo sta poco bene e vi leggo con piacere mio, mi dispiace che non sia qui però, queste righe che ha voluto dedicare al libro. È da anni che alcuni di noi denunciano il ridicolo traffico praticato per le cosiddette grandi mostre. Ridicolo quant'altri mai, è per questo che contro le mostre fiorisce all'improvviso nella sua franchezza e non è solo un libro come tanti ma un appello necessario sì che l'indecenza patetica di tali rassigne viene finalmente stigmatizzata dalle voci di Tommaso Montanari e di Vincenzo Trione. Due personalità estremamente diverse, due specializzazioni differenti, il primo tutto Caravaggio, Bernini e una sensibilità formale allargata al punto tale che non gli toglie la libertà di scrivere in maniera addirittura commossa, in altra sede naturalmente, delle mura etrusche di Orbetello. Il secondo, acceso dalle furie per i vari accadimenti scandalosi è proprio per tutto questo che bisogna riflettere sul da farsi. Potrebbe convertirsi, tale elenco di sciacuratezzi, in una sorta di manifesto che storici e cricidici dell'arte potrebbero far firmare a quel pubblico pagante che il più delle volte è sbeffeggiato, continua a sottoporsi, innocente, a calvari come le famigerate code di ore per riceverne spesso una presa in giro. Direi che non si può più far finta di niente dopo questo libro che racconta fatti, date, nomi e luoghi. Cari amici, sono molto dispiaciuta di non essere con voi stasera, ma da qualche mese evidentemente gli influssi astrali sono per la mia sopravvivenza assolutamente negativi. Chiaramente Lea Vergine attribuisce al libro una qualità che io stesso gli riconosco nella diversità dei punti di vista, cioè l'assoluta onestà intellettuale. È un libro che risente di una immensa passione e ci sono appunto cifre, numeri, dati, persone e non ci si nasconde dietro a un dito quando si vuole accusare qualcuno di una nefandezza. Io vorrei cominciare in ordine alfabetico da Tommaso Montanari. Se ci può spiegare il perché di questo libro, poi entreremo nel merito, perché è sempre un bene. Io lo so, l'ho letto, però è bene che forse voi ce l'ho spiegata. Prego. Intanto grazie a tutti voi, grazie al Corriere, alla Fondazione, grazie a Paolo Conti per aver accettato di presentare questo libro insieme a noi. È una grande occasione, è un grande onore essere qua. Ma diciamo prima scherzando, ma non tanto, che pochi minuti fa, mentre venivo qua, mi è arrivato un sms dalla Rinascente, dove ho incautamente comprato dei calzini, che mi propone di andare a vedere una mostra. La mostra sul 500, la grande mostra sul 500 che si trova a Palazzo Strozzi a Firenze. E riflettevo sul fatto che è difficile capire dove finisce l'acquisto dei calzini e dove inizia l'acquisto della mostra. Cioè sul fatto che questa cosa ti viene venduta come un unico pacchetto. Il che naturalmente sta perfettamente dentro le regole del mercato, del marketing, ma fa riflettere sul fatto che le mostre, le grandi mostre, sono vendute e comunicate esattamente come una merce. E ancor meno però di altre merci intellettuali, penso ai film, al teatro, ai libri stessi, si stenta per questa merce, chiamiamola così, perché questo è, a trovare una critica libera e possibilmente, come dire, radicale, alle singole mostre e al fenomeno delle mostre in generale. Quanti di voi sanno citare a memoria, se siete lettori di giornali, assidui come immagino, vedendovi qua, una stroncatura di una mostra? È davvero molto raro, anzi direi che è impossibile trovare una stroncatura di una mostra. Perché? Perché c'è un sistema molto coeso e molto agguerrito per vendere queste mostre. E la critica, la libera critica, che esiste per i libri, con difficoltà, che esiste per il cinema, con difficoltà, per le mostre sostanzialmente non esiste. E potremmo diffonderci molto su questo, sul rapporto che c'è fra le produzioni delle mostre, i giornali, gli organizzatori, curatori. Ci sembrava che mancasse in questo circuito, mancassero degli anticorpi. E che fosse il caso, proprio per la bassissima quantità di sedi critiche, di inoculare una massiccia dose di anticorpi. Perché è il momento di dire che dobbiamo tenere alta la guardia. E che non vuol dire che non si devono fare mostre, che tutte le mostre sono sbagliate, che il fenomeno è da abbattere. Ma vuol dire che dobbiamo porci di fronte a questo fenomeno con un senso critico forte. Non è facile, perché questo sistema è potente. Qualche mese fa, l'anno scorso forse ne parlò anche Gian Antonio Stila sul Corriere difendendomi, cosa che mi faceva molto piacere, mi è stato chiesto un milione di euro di danni da una famosa fondazione romana che organizza mostre, perché sul mio blog, su Repubblica, avevo detto che da storico dell'arte esperto di Bernini non avrei spostato, mi sembrava sbagliatissimo spostare un delicatissimo busto di Scipione Borghese per portarlo dalle Gallerie Borghese a un museo privato a pochi metri di distanza, in una mostra che secondo me non aveva un progetto critico. Avrei fatto un danno da un milione di euro, non avendolo la cosa mi preoccupa poco, diciamo, non so come finirà, ma mi preoccupa poco. Ma è un indice del fatto che la critica, anche quella, diciamo, di un professore che è pagato dallo Stato italiano per parlare di queste cose, è difficile, trova ostacoli complessi e che in gioco ci sono dei fortissimi interessi. E allora chi fa il nostro mestiere, bene o male, ha il dovere di provare a dare un'altra chiave di lettura, un altro punto di vista, non necessariamente giusto, ma almeno un altro. Il nome di Vincenzo Trione ricorre spesso in molte curatele di vario tipo e proprio Trione in qualche modo si autodenuncia all'inizio raccontando le proprie esperienze, eppure questo libro è di Trione, quindi perché questo libro? Allora sì, in realtà vi racconto molto rapidamente come è nato. Questo libro si è fatto in maniera naturale, cioè senza grandi strategie, senza grandi sovrastrutture. Una passeggiata veneziana, in quel momento ci conoscevamo solo di nome con Tommaso, abbiamo scambiato delle opinioni e abbiamo colto delle fortissime assonanze, delle idiosincrasie, delle predilezioni, una soprattutto una comune idea della storia dell'arte, cioè della storia dell'arte come sapere che deve uscire da certi specialismi che hanno nociuto in maniera probabilmente gravissima a chi fa questo mestiere, rinchiudendo gli storici dell'arte dentro un recinto protettivo che li isola dal mondo che sta intorno a sé, e dall'altro lato anche la necessità di declinare l'esperienza della storia dell'arte su diversi registri, su diversi media, e dunque la collaborazione ai giornali, le conferenze, la televisione, una serie di esperienze che consentano di pensare il nostro mestiere anche come un'avventura intellettuale. Tutto questo si è saldato nel mio caso specifico con uno sguardo dall'interno, nel senso che questo non è un libro di chi racconta qualcosa e la guarda da lontano, ma è un libro di qualcuno che ha avuto un'esperienza interna al sistema dell'arte, le tre tipologie che prendiamo in considerazione in qualche modo io le ho incrociate in maniera diretta, il caso delle mostre blockbuster, io ho seguito una mostra su Dalì che quasi mio malgrado fu un enorme successo popolare di massa, il caso delle mostre crossover, la curatera di una mostra al Foro Romano e al Palatino in cui alcuni artisti contemporanei erano in dialogo con le rovine archeologiche, e infine la Biennale. Ecco, questo sguardo dall'interno però si saldava con la necessità condivisa, con Tommaso, di pensare un libro che fosse insieme un jacuzzi, perché è un jacuzzi, un jacuzzi molto forte, è anche un'invettiva da tanti punti di vista, ma è anche un atto d'amore. Cioè il libro è costruito su una pars destruens, una pars costruens. Mi fa molto piacere che Lea Vergine abbia sottolineato come in realtà sia un piccolo manifesto. Con Tommaso, senza dircelo, ma alla fine abbiamo scritto un piccolo involontario manifesto, nel quale c'è un senso di rifiuto nei confronti di quelle che Zeri chiamava le mostriciattole, che imperversano. Quelle non sono grandi mostre, sono mostriciattole. Cioè il mito della grande mostra che è un mito che ha drammaticamente attecchito nel nostro paese. Dove, io ricordo, dopo aver curato da lì, mi permetto di fare un riferimento personale, una produttrice di mostre venne da me e disse guarda questa è la top list degli artisti su cui fare la mostra nei prossimi anni. Quale scegliamo? Ecco io da quel momento dissi mai più una mostra su uno dei grandi. Perché era esattamente l'opposto rispetto a ciò che io pensavo. Cioè l'arte pensata per me è un fine, in questo caso l'arte era un mezzo della mostra. E questa proliferazione, questa cattiva consuetudine di pensare le mostre che ha trasformato l'Italia in un'anomalia, poi semmai dopo ne parleremo dell'anomalia italiana, è attecchito dappertutto. Il mito del blockbuster. Quando la prima cosa che ti viene detta è quanti visitatori ha avuto una mostra. Mi permetto di dire che è uno dei grandi problemi che anche in questo momento i nostri musei hanno. Cioè la prima cosa che ti viene detta non è se un museo sta facendo attività di ricerca, sta portando avanti una progettazione seria, rigorosa, con delle partnership. Ma ti viene detto esclusivamente quante persone sono entrate. Questo mito del numero, del blockbuster, è stata una delle cose che io e Tommaso abbiamo sentito con un'enorme diffidenza e abbiamo provato a dire ma ragioniamo sul fenomeno del mostrismo. In tutte le sue degenerazioni, le mostre che presentano l'opera Feticcio. Milano, pensate a quello che succede a Palazzo Marino, il caso della mostra Feticcio esibita come se fosse la Madonna Pellegrina. Oppure pensate alle mostre Hollywood, per esempio il caso della mostra Oper a Palazzo Reale a Milano, dove tu hai la sensazione di entrare dentro Gardaland. Ma non è una mostra. Oppure pensate ai casi ancora più drammatici, avallati da molti nostri colleghi, delle mostre senza opere. Tantissime. Oramai è una compagnia di giro che investe il nostro paese, in cui voi pensate a Klimt, pensate a Caravaggio, pensate a Van Gogh. Tutte queste mostre che proliferano nel nostro paese in cui non c'è più opera d'arte, ci sono queste mega gigantografie che proiettano dettagli di opere, le persone semmai ci vanno e il dramma vero è che ci sono storici dell'arte che avallano situazioni e esperienze di questo tipo. Di contro a questo, noi abbiamo sentito la necessità quasi morale di alzare un urlo ragionato nei confronti di questo cattivo indirizzo, provando a dire ma perché non si ricomincia a pensare a delle mostre serie, rigorose, che nascono dopo anni di studio, che possono essere anche piacevoli, ma non devono diventare una sorta di, soltanto di grande spettacolo in cui ci si inchina una sorta di effetto soufflé, dove si punta esclusivamente su mega allestimenti e spesso non c'è nessuna aggiunta alla conoscenza di quegli autori. Io proverei a fare una piccola domanda passando in rassegna molte delle mostre, per esempio, che si sono fatte tra Roma e Milano in grandi sedie espositive, pensiamo il caso anche di Palazzo Reale, quante mostre erano davvero necessarie? Questa è una domanda che provo a pormi, cioè quante mostre erano davvero necessarie? Quante mostre erano davvero urgenti? Perché si sono fatte quelle mostre? Cosa hanno insegnato quelle mostre? Una domanda aperta, poi ciascuno può rispondere. Allora, la domanda però a questo punto riguarda, leggerò tre righe di quelle, come dire, buone. Se c'è un motivo per essere contro le mostre è che le mostre sono contro il contesto. Sono le mostre il più grande fenomeno di rimozione e oscuramento dei contesti insieme a guerre e catastrofi naturali. Ora, come capirete, qui andiamo di fioretto e va benissimo, nel senso che è anche piacevole in una stagione in cui si usa il consociativismo, oltre che in politica, anche dal punto di vista culturale, è bello avere un pugno. Però io mi chiedo, per agganciarci al sorriso che abbiamo provocato, ma sono tutta una massa di imbecilli questi che si mettono in coda? Cioè, è possibile davvero, e mi chiedo, analizzando le vostre ragioni, il contesto è la cosa più preziosa che abbiamo in questo paese, perché è probabilmente l'unico paese che può vantare un contesto così ampio, ricco tra paesaggio e produzione d'arte, e questo lo diamo per scontato. Ma mi chiedo, per esempio, le quantità enormi di scolarische che vanno a vedere, faccio l'esempio di quelli che voi ritenete la cosa peggiore, Van Gogh messo con il dettaglio, magari non sarà che quei ragazzi tornano a casa e magari si comprano qualche libro, e magari si vanno a cercare Van Gogh nei musei aperti, e magari ne parlano con i genitori, e magari si studiano la biografia. Può darsi che ci sia un risvolto di questo tipo? O almeno ve lo siete mai chiesto? Allora, provo a risponderti così. Io insegno a Napoli, ci siamo incrociati anche per questo punto, io insegno a Napoli, Vincenzo Napoletano insegna a Milano. Quando faccio il corso alla triennale, cioè ai ragazzi più giovani, alla prima lezione di storia dell'arte moderna, che è il corso istituzionale, comincia con il 400, ormai è un giochetto che faccio spesso, chiedo, aula piena, 200 studenti, 150 studenti, dipende dagli anni. Qualcuno di voi ha visto con i propri occhi un scultore Donatello? Risposta, si alzano, non so, su 150 persone si alzano 20 mani. Ci sono i più fortunati che mi dicono, sì l'ho visto a Firenze, l'ho visto a Parigi o a Washington, a Londra, ma a Napoli qualcuno l'ha visto, quasi mai nessuno alza la mano. A pochi passi dalla nostra aula, che sta in via Marina, salendo via Mezzocannone, si arriva a Sant'Angelo a Nilo, una chiesa aperta gratuitamente, in cui c'è uno strepitoso monumento funebre di Donatello e Michelozzo, che non hanno mai visto, ed è gratuito. Se io chiedo, chi di voi ha visto una mostra di Van Gogh, tre quarti della classe dell'aula alza la mano. Ed è una mostra a pagamento, in un contesto sociale in cui quei soldi non sono pochi. Allora, non si tratta di essere sciocchi, si tratta di essere, come dire, oggetto di un marketing martellante, di un sistema martellante, in cui il fatto che tu non abbia le chiavi, usiamo questa metafora, per le chiavi, il desiderio per accedere a quell'enorme patrimonio gratuito, che si salverà soltanto se lo conosciamo e se lo amiamo, è un problema fondamentale. Allora, la storia dell'arte dovrebbe innanzitutto restituirci il desiderio e la possibilità intellettuale di accedere a quel patrimonio che è nostro, che manteniamo con le nostre tasse, che ci circonda, e che per sopravvivere ha bisogno del nostro amore, della nostra conoscenza. C'è un problema enorme, come diceva Vincenzo, che è il tradimento della storia dell'arte. Una meravigliosa scritta, una lettera di Longhi a Briganti, nel 1944, Longhi scrive a Briganti, noi dovremmo essere popolari, cioè dovremmo parlare, Longhi diceva, vorrei, avrei dovuto scrivere la storia dell'arte a centomila copie per l'editore Salani, poi non lo farà e continuerà a parlare per pochi. Il punto è, cos'è in questo paese la divulgazione? Un'altra parola non bellissima, forse ancora meglio, è la condivisione della conoscenza da parte degli storici dell'arte. Chi fa il nostro mestiere si dedica realmente a redistribuire i frutti della propria ricerca? Lo facciamo molto poco e molto male. In un altro libro perfidamente ho messo a confronto due pezzi dedicati alla stessa opera, la Trinità di Masaccio, uno di Giulio Carlo Argan, che è pure stato un grande storico dell'arte, e anche un grande uomo politico, uno a cui l'impegno civile stava molto a cuore, un grande sindaco di Roma, e un brano di Ernest Gombrich, un grande storico dell'arte viennese trapiantato a Londra. Tutte e due scrivevano della Trinità di Masaccio e se uno legge quello di Argan non si capisce quello che vuol dire. E viene da un manuale di scuola, il manuale su cui io e qualcun altro di voi avrà studiato. Il manuale di Gombrich, che è un libro non fatto per l'adozione scolastica, ma che è il più bel manuale di storia dell'arte, che nasce dalle sue racconti dell'arte fatte alla BBC durante la guerra, è meraviglioso perché tu entri dentro quell'opera e diventa tua. Noi non abbiamo coltivato la capacità, il talento di parlare a tutti, di essere popolari. E un risvolto della medaglia è che invece di crescere cittadini liberi nel loro paese, nel loro territorio, nel loro contesto, abbiamo lasciato molto esposti i nostri concittadini al marketing delle mostre, che purtroppo raramente aumentano la nostra conoscenza. Allora, queste due cose sono in competizione obiettivamente, perché se sommassimo tutti i soldi che gli enti locali e lo Stato danno alle mostre, avremmo un bilancio del patrimonio pubblico straordinario per tutela e divulgazione e conoscenza. Voi parlate del marketing del patrimonio, dovrebbe esserci un corretto marketing del patrimonio, cioè una spiegazione. I primi tempi del Ministero di Dario Franceschini, quando ancora ci parlavamo, gli proposi di fare questo. Gli dissi, ma perché io devo vedere i cartelli finanziati con le mie tasse che fanno la pubblicità, le mostre? Le mostre, una gran parte delle mostre, io di questo ho parlato soprattutto in altri libri qui, ho lasciato la parte cattiva a Vincenzo, che invece non è stato cattivo, ma molto serio, molto rigoroso, ma in privati del patrimonio ho cercato di fare un'analisi anche del sistema economico delle mostre. Le mostre sono in Italia spesso fatte con opere pubbliche, in grandi luoghi pubblici, spesso con personale pubblico, ma creano profitto privato. Ho pubblicato alcuni contratti di mostre, alcuni del nord-est, dove c'è Marco Goldin, che da tanto tempo fa mostre a getto continuo. È possibile trovare i contratti in cui l'amministrazione pubblica gli dà alcuni milioni di euro, gli dà il luogo, le opere sono pubbliche, c'è una socializzazione delle perdite e una privatizzazione dei profitti. Anche perché, diciamo, un famoso comune Lombardo rispose a Longhi negli anni 50 che gli chiedeva il prestito di un codice miniato, il telegramma era spiacente non poter concedere prestito a opere in oggetto perché ne possediamo solo una. Perché le opere d'arte sono pezzi unici e se si rovinano c'è questo rischio enorme, più li muovi, nel libro se ne parla, io provo a fare un elenco dei danni, la Madonna dei Pellegrini di Caravaggio, visibile gratuitamente in una chiesa a Roma che viene portata a Milano e viene bucata con una penna mentre è esposta. Poteva succedere anche a Roma, ma c'è bisogno di togliere un'opera che sta sull'altare in cui l'ha messa Caravaggio e portarla qua. Lo si dovrebbe fare molto di rado. Io non dico non si possa fare, ma quante mostre di Caravaggio siamo destinati a vedere la nostra vita? Che sono sempre quella definitiva, meravigliosa, più grande. Quante volte abbiamo visto le stesse opere negli stessi luoghi? E questo lo si diceva Francis Suss, che è un grande storico dell'arte, in un libro fondamentale sulle mostre. La retorica ogni volta ti dice che quelle opere insieme non potranno mai più essere rimesse, è un evento storico che non bisogna perdere. Poi i tempi in cui si ripete si accorciano. Prima erano 30 anni, 40 anni, ora sono 5 anni, 4 anni, 3 anni. Allora, il punto è cominciare a decostruire questo fenomeno e ricordarci che in Italia non siamo in America. Cioè, in Italia i Caravaggio stanno nelle chiese, non sono necessariamente in luoghi in cui bisogna pagare il biglietto. Questa abitudine a recuperare, a riprendere confidenza con ciò che ci ha offerto gratuitamente, proviamo a dire nel libro, il modello chilometro zero, il modello slow food, l'umiltà degli storici dell'arte che dovrebbero rimparare dal mio amico Carlin Petrini e da quello che lui ha proposto. Veronelli, che è aspirato Petrini, diceva bisogna camminare le campagne, camminare le cantine, non basta andare in osteria a chiedere un bicchiere di vino. Bisogna recuperare il nesso col territorio e il paesaggio. Vale anche per le opere d'arte. Recuperare il contesto vuol dire quel luogo fondamentale in cui le opere d'arte sono nate o sono state collocate e che ci dà una capacità di comprensione infinitamente più grande. Grazie Montanari, io vorrei chiedere a Trione. Trione nel libro affronta molto, dall'inizio l'hai citato, naturalmente noi non facciamo le finte che ci diamo di lei perché ci diamo di tutti i giorni, quindi scusateci. Non è il fatto che apparteniamo alla consorteria che ci viene così. Tu insisti molto sul tema del crossover, ovvero da buon eccellente contemporaneista quale sei, vi chiedete in questo libro, però la domanda è per te, che senso possa avere continuare con questa frequenza, addirittura con ostinazione e con perdicacia, a agganciare l'arte contemporanea nei grandi luoghi dell'arte classica, dell'arte moderna e quasi imporre questo dialogo. E devo dire che, vabbè, ma questo non ha importanza, io stesso recentemente sono andato a Caracalla e l'inevitabilità del contemporaneo colpisce quando c'è una bellezza assoluta, ma questo vabbè, è un altro discorso. Invece volevo chiederti, perché già ne avevamo in qualche modo parlato via e-mail, non è probabilmente un problema legato anche alla distanza del tempo? Mi spiego. Quando si va a Spoleto, si continua a vedere il grande inserimento del contemporaneo che risale al 62 a Carandente e chiunque vada a Spoleto o durante o comunque al di fuori del Festival, vede questa roba qui, che mi pare funzioni, è ancora studiata in diverse università del mondo. Ecco, non sarà un problema anche del tempo che, quando viviamo una cosa ci pare orribile, anche Carandente pagò dei prezzi enormi con quegli inserimenti e adesso Spoleto è quasi impensabile senza quella roba lì. Beh, allora, il lavoro di Carandente è sicuramente stato un'apripista, come il lavoro che hanno fatto a Napoli personalità come Raffaello Causa, come Nicola Spinosa, che hanno portato all'interno di un museo, per esempio, importante come Capodimonte, delle opere d'arte contemporanea. Sicuramente il crossover ha un aspetto positivo, cioè rivela un po' l'esigenza di molti artisti contemporanei di mettere un freno a certo avanguardismo e quindi un po' di ripensare il proprio rapporto con la storia dell'arte, di riallacciare delle relazioni, di uscire fuori da una visione progressista della storia, cioè soltanto di questa crescita in avanti senza nessuna radice. In fondo il crossover che, per intenderci, ha a che vedere con la posta in dialogo tra opere d'arte contemporanea e o opere d'arte del passato o architetture del Rinascimento o siti archeologici. Quindi c'è un aspetto positivo che ha a che vedere con l'esigenza di dare una nuova solidità, un nuovo rapporto con la storia di tanti artisti contemporanei. Eppure, secondo me, è diventato un puro trucco, un puro artificio. Ci sono alcuni casi che potremmo citare. Il caso Mitorai. Mitorai credo che sia uno degli esempi più clamorosi di oggetto d'arredamento buono per qualsiasi luogo. Il ministro Franceschini si vanta spesso di aver promosso l'allestimento delle sculture di Mitorai all'interno degli scavi di Pompei. Mitorai lo possiamo trovare ovunque, ad Agrigento. È diventato buono per qualsiasi contesto. E via di questo passo. Ce ne sono tantissimi di casi di questo tipo in cui il crossover diventa un trucco. Probabilmente la città di Tommaso, Firenze, è diventato lo scenario privilegiato di questo. Le esperienze che sotto Nardella sono state portate avanti di spostamento di opere da Jeff Koons a Jan Fabre fino a Gaetano Pesce, all'interno di fronte, in una delle piazze fondamentali, centrali del rinascimento italiano, è la rivelazione di come il crossover possa produrre dei mostri. Molto semplicemente si tratta di interventi nei quali si prendono opere realizzate per tutta altra ragione in altri contesti e le si trasferiscono all'interno di un sito storico. Qual è l'effetto di tutto questo? È la sindrome dell'arredamento. Cioè esattamente l'opera d'arte diventa una componente d'arredo che viene tranquillamente spostata, rilocata all'interno di un diverso contesto. Qual è il vero dramma di operazioni di questo tipo? È che si nuoce contemporaneamente sia all'arte di oggi che all'arte del passato. Si fa un cattivo servizio sia all'architettura del rinascimento sia al lavoro di alcuni artisti contemporanei che utilizzano il contesto storico in realtà come una sorta di mensola di usciampiana. è come se il contesto storico desse loro una legittimità culturale di cui hanno bisogno. Per sentirsi grandi artisti hanno bisogno di mettersi in dialogo con Brunelleschi o con Piero della Francesca o con Caravaggio e così via. È successo anche con la moda. Galleria Borghese ha accolto i lavori, gli abiti di uno stilista tunisino pur bravissimo in dialogo con Bernini e Canova senza nessun tipo di confronto. Ecco il crossover quando diventa piccolo trucco, piccolo imbroglio, artificio che non fa capire né le ragioni dell'arte contemporanea né le ragioni dell'arte del passato secondo me è decisamente fuorviante e credo che rappresenti davvero una perdita di senso che fa male a tutti, a chi guarda, a chi interpreta e così via. Grazie Trione. Io vorrei fare una domanda a Montanari legata a questo vocabolo che in qualche modo credo che sia un neologismo che vi siete inventati voi, ma la biennalizzazione, non so se già sia stato registrato dai nostri amici linguisti di cui noi in questo periodo stiamo allegando alcune copie, ma faccio un esempio preciso. Voi bocciate senza grandi appelli per esempio l'esempio, no l'esempio, insomma il tentativo che ha fatto Cristiana Collu alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna o Galleria Nazionale come si vuole che si chiami ora, di rivedere completamente la collezione e mettere pezzi della collezione medesima in dialogo tra per esempio 800 e contemporaneità e chiaramente creando anche un forte senso di straniamento. Allora mi chiedo ma come mai utilizzare questo neologismo come un elemento deteriore nel momento in cui la biennale di Venezia dal momento della sua fondazione è diventato un modello nel resto del mondo, lo sappiamo, adesso ce ne sono anche troppe, c'è una biennale al giorno, cioè anche qua è possibile che abbiamo espresso un modello così negativo da farne, un feticcio terribile, ecco questo mi interessa. Allora per competenza della biennale deve parlare Vincenzo visto che ha curato un padiglione Italia, deve spiare, comunque sì poi chiaramente lo sentiremo. Allora insomma c'è un dato di fatto obiettivo, quando il ministro Franceschini ha deciso di fare la riforma dei musei. Sentirà dei fischi nelle orecchie tremende non so se è sul treno di Renzi ancora, non so se gli arrivano i fischi, forse è isolato, non tirano piombato, perché la rivoluzione viaggia sui treni piombati come è noto. Quando Franceschini sceglie di fare la riforma dei musei e fa questa cosa singolare che non si è fatta in nessun paese del mondo, una commissione di quattro persone che sceglie il direttore di 20 musei tra loro diversissimi, quindi diciamo un concentrato della scienza universale, tu devi scegliere il direttore di Brera e di Capodimonte insieme, dell'archeologico di Napoli e del Bargello e di altri, fino a 20, sceglie che a presiedere la commissione sia il presidente della Biennale, Paolo Baratta. E c'è una saldatura forte, personale, diciamo, fra il modello vincente della Biennale e quello che si vuole ottenere dai musei. Qui, diciamo, il gioco è scoperto, è quello il modello a cui ci si riferisce. Allora, ci si può chiedere perché, certo perché appunto è un modello di successo, i veneziani potrebbero dire che cos'è la Biennale rispetto alla città, cioè come la Biennale divora Venezia, il lavoro veneziano, la città stessa, di questo si potrebbe parlare a lungo. A me interessa, diciamo, in questo momento più che altro il profilo intellettuale, cioè come i musei usciti dalla riforma, e tu citavi il caso della Gnam, la Galina Arte Moderna di Roma, con la direttrice Cristiana Collu, abbiano fatto proprio il modello della mostra effimera, della Biennale, ma in generale il modello della mostra. Cioè i musei tendono a somigliare alle mostre. E questo, quando ci si chiede quali sono gli effetti più durevoli, buoni o cattivi, di questa dittatura delle mostre, di questo mostrismo, di questo panmostrismo, uno degli effetti che dobbiamo cominciare a descrivere e a criticare, poi magari qualcuno sarà perfettamente invece d'accordo, è che lungi dall'assomigliare ai musei, le mostre impongono il loro modello. Da che punto di vista? Per esempio, dal punto di vista che prima c'era Vincenzo, per cui non c'è una produzione originale di conoscenza. Io facevo parte della Commissione, che al tempo di Brahi doveva ridisegnare il Ministero per i Bieni Culturali, fu il primo, imprudentemente, mi morderei la lingua oggi, a proporre che i musei potessero acquisire una qualche forma di autonomia, che per noi non voleva dilestrarli dal corpo del contesto delle sovrintendenze, ma speravamo che i musei potessero, assumendo molti giovani storici dell'arte, che sono costretti ad andarsene all'estero, a lavorare nei call center, a fare cose che non c'entrano nulla con quello che hanno studiato, anche i fisici, anche, però gli storici dell'arte in questo momento ci stanno a cuore in questo discorso, assumere e creare delle comunità di ricercatori residenti. Quando io vado al Museo dell'Acropoli ad Atene, ad Atene, cioè un luogo che ha i suoi problemi economici, lo Stato greco, trovo un cartello che ho scritto, archeologo, e c'è un archeologo vero, di ruolo, non precario, a cui si può chiedere, diciamo, non una guida, uno studioso, che a turno mette in contatto direttamente il suo lavoro con i visitatori. Se ci si pensa, i musei sono uno dei pochi luoghi dove un cittadino comune viene a contatto con la ricerca di base, perché non entriamo nei laboratori di fisica, mentre se tu entri in un museo puoi, e ti succede quando vai a Louvre, quando vai nei grandi musei dove c'è una comunità di decine a Louvre, di centinaia di ricercatori, ti capita non di apprendere un manuale di storia dell'arte stant'io, ma di capire come si fa la ricerca, come si cambia, come si innova la conoscenza, ed è fondamentale in un modello democratico, perché la ricerca e la conoscenza, la critica del reale, che tu apprendi anche nei musei, ti serve poi per altre cose nella tua vita, è un'attitudine critica fondamentale. Rimontare la Gnam di Roma togliendo i cartellini, togliendo i titoli, togliendo gli autori, togliendo i riferimenti alla cronologia, togliendo la ricostruzione del contesto culturale, cioè ogni forma di storicismo, e affidarsi per esempio a degli scrittori, persone molto intelligenti, preparate, che suggeriscono un allestimento del tutto, come dire, personale, con assonanze interiori, letterarie, culturali, vuol dire mettere le mani su un tessuto che dovrebbe essere continuo, c'è anche chi non c'è mai stato prima, ci sono i ragazzi che ci devono andare, e sostituire a un impianto storico, formativo, un impianto completamente impressionistico, che deve suggerire degli stati d'animo, delle sensazioni. Diciamo, questo si può fare in una mostra, e lo si fa in questo modo fluviale. Quando questo modello si applica a un museo, insomma, credo che dobbiamo cominciare ad avere dei dubbi, perché questo arbitrio è un arbitrio che rischia di modificare radicalmente e per sempre un tessuto. Quando, diciamo, l'accostamento fra opere d'arte di oggi e opere d'arte del passato si propongono in una mostra, è un conto. Quando il ministro per i beni culturali fatta la riforma dice, i direttori dei musei, peraltro nominati dalla politica direttamente, con consigli scientifici nominati dal ministero e dagli enti locali, è la prima volta che i consigli scientifici dei grandi musei italiani vengono nominati dai sindaci e dai presidenti di regione, cioè Maroni, Zaie, Rossi, vogliamo continuare, nominano i membri dei consigli scientifici di Brera, degli Uffizi, di Capodimonte. Quando questi consigli scientifici così nominati ricevono dal ministro che ha tirato le fila la missione di ospitare la moda italiana e di tirare, come ha detto lui, tirare la volata al Made in Italy, ci si deve fare qualche domanda, anche perché nello stesso momento i decreti attuativi della buona scuola, degli stessi governi, dicono che i bambini, cito testualmente il decreto attuativo sulla cultura umanistica, devono imparare a riconoscere l'eccellenza del brand Italia. Io ho capito che la cultura umanistica era un'altra cosa, però nello stesso momento musei e scuola convergono nell'idea che questo sia il valore, cioè un valore di mercato. Non c'è ricerca, non c'è produzione di conoscenza e c'è un'invasione del presente per cui succede che io trovo nei musei gli stessi abiti che trovo nelle vetrine della strada che mi porta a quel museo. Allora, io non ho nulla contro la moda, ma siamo proprio sicuri che ci convenga dire che Raffaello, Caravaggio e Armani o Trussardi sono la stessa cosa? Sono importanti, ma non sono la stessa cosa. Questa parificazione, in un momento in cui, diciamo, viviamo in una specie di totalitarismo del presente, schiacciati per ragioni tecnologiche, dai telefonini alle televisioni, su una dimensione presente, questo presente che divora il futuro e insieme divora il passato, ci aiuta? o il museo potrebbe ancora essere il luogo dove tu impari un altro modo di essere, un'altra dimensione? Gramsci diceva che l'idolo più difficile da abbattere è quello che ci fa pensare che tutto ciò che esiste è naturale che esista così. Dov'è che si attinge il desiderio, la fantasia, l'immaginazione, la forza intellettuale per progettare un futuro che sia diverso dalla prosecuzione del presente? Anche dalla conoscenza del passato, che è stata una grande scuola. Giovanni Urbani, che è stato un grande storico dell'arte, il restauratore, un uomo con la schiena dritta che si dimise dall'istituto centrale del restauro in polemica con Spadolini, cosa direbbe oggi con Franceschini, non lo so, allora si dimise, diceva, traducendo un passo molto bello delle leggi di Platone in maniera un po' forzata ma molto bella, il passato è come un dio che quando è presente vivo in mezzo agli uomini li salva. Questa idea di un passato non mummificato ma vivo, attualizzato attraverso la conoscenza, io credo che sia preziosa in una società che tende a schiacciare tutto sulla dimensione effimera del presente. Siamo convinti che rendere i musei dei luoghi di promozione del presente, del presente più mercantile, sia davvero il motivo per cui teniamo aperti i musei o non è un altro, come dire, un altro momento in cui il modello della mostra effimera stinge su queste cose così preziosi. Grazie Montanari. L'hai chiamato, l'applauso va bene, benissimo. Trione, lui stesso, lo stesso Tommaso ci chiedeva di farti parlare sulla biennale. Ora tu, quell'esperienza, io lo devo dire da cronista, ha avuto un eccellente successo, è andata benissimo, sia dal punto di vista delle critiche, adesso non so se sia solo merito, diciamo, degli inserzionisti pubblicitari, ma anche, devo dire, non ricordo delle stroncature selvagge e il pubblico, e tu stesso, hai detto nell'introduzione, ho fatto delle scelte destinate a far pensare che richiedono tempo per essere meditati. Ora, non è che voglio, non sono un particolare amico fraterno di Paolo Baratta, però vorrei capire se davvero è possibile che figure come la sua appartengono a quell'universo che Montanari ci ha descritto completamente, oppure c'è qualcosa da salvare? No, ovviamente abbiamo riflettuto molto prima di scrivere questo capitolo sul tema delle biennali. Non vi nascondo che parlare delle biennali, avendo vissuto quella macchina infernale dall'interno, e vi assicuro, è una delle esperienze più impegnative che si possano vivere, anche dal punto di vista della tenuta nervosa, per mille ragioni. Però avere quello sguardo dall'interno mi ha consentito anche di capire una serie di equivoci che sono intorno alla biennale. Ovviamente nel libro, nel capitolo per esempio che ho seguito io, c'è l'ombra lunga di Paolo Baratta, ma io per scelta non l'ho citato e Tommaso poi nel suo capitolo è violentissimo nell'attacco. Però paradossalmente la parte in cui Baratta viene messo più sotto accusa alla filosofia di Paolo Baratta è proprio la parte che ho scritto io. Bene, non c'è nulla di personale nei confronti di Baratta. Baratta è senza ombra di dubbio un manager della cultura riconosciutissimo. Dopo anni di equivoci intorno alla biennale, Baratta ha ridato dignità anche internazionale alla biennale, ma omnia tempus sabent. Vale a dire che ci sono delle scelte, delle direzioni che probabilmente, strada facendo, rischiano di diventare un po' la ripetizione di un cliché. Baratta è un po' il responsabile, la creazione di un cliché, in cui agisce come uno straordinario impresario, i vari curatori di volta in volta si succedono di due anni in due anni e interpretano uno spartito che è sostanzialmente lo stesso, c'è una mancanza di innovazione rispetto proprio al processo biennale, in un mondo nel quale si tende a lavorare sull'interdisciplinarietà, la biennale lavora ancora su una netta divisione tra i saperi e così via. ma la biennale certamente, tu hai ragione, la biennale nel libro citiamo la quantità di biennali che sono nate in giro per l'Italia, ma nel mondo. All'epoca, molti anni fa, all'università facevamo una ricognizione su questo ed erano tipo 150 biennali, una cosa del genere, ed era fino a due anni fa. Crescono a dismisura. Il punto delicato è che la biennale è espressione di un equivoco che oscilla tra elitarismo e finta demagogia. Cioè, da un lato le biennali tendono ad affrontare oramai, sempre più spesso in maniera quasi ossessiva, tematiche politiche, sociali. Ma al tempo stesso le biennali sono diventate un luogo antidemocratico dal punto di vista delle opere proposte. Cioè le biennali rischiano oramai di essere un luogo nel quale una comunità che è la comunità dell'arte contemporanea si riconosce come una sorta di scientologi. Cioè, la biennale è diventata un po' il luogo in cui la scientologi dell'arte parla sempre la stessa lingua, in cui i critici hanno abdicato completamente al proprio esercizio interpretativo del presente e rischiano di agire sostanzialmente come dei testimoni imparziali dell'attualità. Accanto a questa esperienza c'è opere d'arte. Io sono rimasto mille volte basito di fronte alla convinzione con cui Paolo Baratta sostiene che non ci sono più opere d'arte. Cosa che io arresto. Lui, una cosa che ha detto anche in un incontro pubblico che abbiamo fatto lo scorso anno, mi diceva no, la biennale non deve presentare opere d'arte, la biennale deve presentare intenzioni di opere d'arte. Anche la politica presenta è intenzione. Che un ingegnere, manager, abbia anche virtù teoriche, critiche, tali da capire che opera d'arte debba essere presente all'interno di una biennale. Ecco, questo mi preoccupa abbastanza. L'idea che le biennali sono diventate un luogo antidemocratico si rivela in una cosa. Provate a fare una passeggiata in una biennale e provate a capire che cosa state guardando. Provate a leggere le didascalie che vi accompagnano all'interno delle mostre. Nel 90% dei casi non avete un testo che minimamente ti consenta di capire perché quell'artista ha fatto quella determinata cosa, quali sono i riferimenti di quell'artista, che cosa ha guardato e altro. Avete o elucubrazioni vagamente teoriche con citazioni filosofiche mal assorbite. Potreste fare un test dei filosofi che di volta in volta, i soliti Deleuze, i soliti Agamben, Derrida, Heidegger e così via. Tutte cose molto orecchiate. E il dramma di fondo è che davvero avete delle macchine espositive che sono diventate dei circhi barrum straordinari. Le biennali sono il luogo che vuole esibire maggiore anticonformismo abitato dalle persone più conformiste che possiate incontrare. La sindrome di Alberto Sordi nel famoso corto in cui la moglie si addormenta e viene esposta come opera d'arte. Sì, ma in realtà quando vado alle biennali non mi sento tanto come nel film di Sordi che pure è un cult, mi sento come Toto a colori. Ricordate Toto a colori, il Gaga? Ecco, io mi sento esattamente in quella situazione, con tutte persone. La cosa straordinaria è che alle biennali tutti pensano la stessa cosa. Cioè, questa è una cosa fantastica. Cioè, se tu cammini nelle biennali c'è una sorta di omologazione del pensiero. A diverse latitudini del pianeta le persone che vanno alla biennali, soprattutto al vernissage, pensano tutti la stessa identica cosa. Tutto questo scenario ha avuto una drammatica ricaduta nell'ambito delle mostre. Quando tu citi il caso dell'Agnam della direzione di Cristiana Collu, l'impressione è quella davvero di imbattersi in un museo che è stato pensato, forse in uno dei musei d'arte moderna più importanti d'Italia, con una collezione straordinaria, in cui la curatrice, attaccando, ma probabilmente è la responsabilità anche degli storici dell'arte che hanno lasciato campo libero a queste scelte arbitrarie impressionistiche. La curatrice, la direttrice, si è permessa il lusso di fare accostamenti, abbinamenti che tu puoi fare in una mostra, o all'interno di una collezione privata, o dentro casa tua. Cioè, se tu accosti le opere in virtù di un colore, una forma, e poi non c'è un cartello che legittimi, che spieghi per quale ragione tu hai fatto quella determinata cosa, quando trasformi un museo in un padiglione della Biennale, stai nuocendo al modello della Biennale, e stai facendo un danno enorme a una delle collezioni d'arte moderna e contemporanea più importanti del paese. Grazie Trione, e volevo, Montanari me lo permetterà, vorrei fare un piccolo giochino, e ti dico due o tre cifre e poi ti dico di che si tratta. 193 opere, tra cui Rubens, Reimbrandt, Velázquez, 61 tra Caravaggio autentici, copie e falsi più o meno riconosciuti, tutta questa mole di roba venne esposta nel 51 da lunghi. Allora, mi chiedo, fu un errore anche allora, nel senso che se oggi ti dicessi di una monomostra composta da questi numeri, tu metteresti mano alla pistola, uccideresti Franceschini, ne faremmo di tutti i colori, però possiamo dire con l'occhio storico che quella fu una delle mostri con la più grande intenzione del dopoguerra, ma lo sapevamo allora, Borgese sul Corriere si interrogò tantissimo sulle ragioni che anche allora ci furono le file, allora mi chiedo, sempre nel mio ruolo di fare le domande ostili, ma non è sempre una ragione legata al tempo che poi ci fa vedere le cose con distanza e magari tra vent'anni li vedremo delle mostri con un occhio diverso? Beh, direi di no, cioè Longhi fa quella mostra come culmine di un'attività di ricerca durata 40 anni, dalla sua tesi di laurea nel 1910, Longhi dal 1890, Toesca gli propone una tesi sui Castelli della Valdosta e lui decide che preferisce Caravaggio e Caravaggio risorge negli studi di Longhi, risorge, riprende vita, ritorna a essere un pezzo della storia dell'arte italiana. Quella mostra è il culmine di una lunghissima ed eccellentissima stagione di ricerca che vede la resurrezione di un artista e il fatto che quell'artista riabita non solo la bibliografia specialistica e scientifica degli storici dell'arte, ma l'immaginario collettivo. Se oggi qualche adolescente, più di un adolescente, ha attaccato in camera un poster di un quadro di Caravaggio, ed è uno degli antichi maestri a cui succede, è grazie anche a quella mostra, nella cui introduzione Longhi, un Longhi che dieci anni prima era stato vicinissimo, era stato maestro di Pasolini all'Università di Bologna e da cui Pasolini parte per un'idea di rapporto con la realtà, di realismo che ha proprio nel suo DNA il recupero di Caravaggio, un Longhi vicino al Partito Comunista, un Longhi vicino a Guttuso, un Longhi che parla nell'introduzione di un Caravaggio popolare, pittore più popolare che umanistico, con l'intenzione lui di essere popolare. Quello hai preso, secondo me, il momento proprio più alto di coincidenza fra attività di ricerca e capacità di raccontare questa ricerca a tutti. Quella è una mostra necessaria. Le opere spostate erano enormi. Certo, certo, però, non solo ma erano spostate, anche alcuni dei grandi complessi, anche le teleracontarelli vengono spostate, ma infatti nel libro che noi diciamo si può anche pensare a una mostra di Leonardo in cui si sposta tutto, anche la Gioconda. Perché la Gioconda non si deve poter spostare? È un grande tabù. Ed è anche uno dei fetici più grotteschi di questo mostrismo. Qualche anno fa a Firenze si sono raccolte in piazza delle firme per avere la Gioconda a Firenze, iniziativa partita da quel gruppo incredibile di persone che cerca le ossa della Gioconda dopo aver detto di aver trovato le ossa di Caravaggio. Lì siamo invece in Tototruffa, un altro film ancora, diciamo, della serie. Ridateci la Gioconda con l'equivoco che la Gioconda sia stata portata da Napoleone, invece la portata Leonardo in Francia, come è ben noto. Allora, anche la Gioconda si può spostare, cosa che metterebbe il Louvre in qualche difficoltà, se ci fosse una mostra paragonabile a quella non ghiana di Caravaggio, cioè una mostra che culmina decenni di ricerca e che propone degli accostamenti che non... che come dire, che producono conoscenze. Perché una cosa di cui ci si dimentica è che moltissimi dei discorsi degli storici dell'arte si possono fare nei libri e si possono fare ormai in televisione. A me, quando mi dicono ma tu fai delle cose politiche, la cosa più politica che ho fatto è una serie televisiva su Caravaggio, perché l'hanno vista centinaia di migliaia di persone ed è quello, secondo me, che gli storici dell'arte dovrebbero trovare il tempo di fare. Poi bene o male, magari l'ho fatta malissimo, però il tentativo era quello. Se vogliamo spostare gli originali, che sono di tutti e sono unici, ci vuole, diciamo, la capacità di dimostrare che l'accostamento di cose che sono solitamente in luoghi diversi produce un sovrappiù di conoscenza che altrimenti non si può produrre. Proprio essendo individui, vivi, perché le opere d'arte sono individui vivi, un conto è parlarsi al telefono, un conto è guardarsi negli occhi con un amico, con una persona cara. Succedono delle cose guardandosi negli occhi che non succedono al telefono, che non succedono guardando le foto o nemmeno parlandosi per Skype. Però queste cose devono succedere e visti i numeri della società di massa, anche degli storici dell'arte di massa e delle società che producono mostre di massa, non possiamo farli succedere tutti i giorni. Ci vuole la capacità, intanto, degli storici dell'arte di darsi, nel libro proviamo ad abbozzarlo, un codice etico autoimposto, come hanno molte categorie, in cui si prova a dire che le mostre, che non sono necessarie, sono di per sé, non sono inutili, ma anche dannose. Cioè, le mostre devono essere necessarie. Mi devi dimostrare che portare quelle cose in una stessa stanza, farle reagire, provoca un aumento della conoscenza tale da giustificare i rischi. Era Haskell che diceva, mentre parlo, mi ricordo quando facevo le conferenze in giro per l'Europa, io l'ho sentito a Pisa, la normale, mentre io vi parlo, sulla mia testa e sulla nostra testa sfrecciano aerei carichi di Poussin, Caravaggio, Moran, e diceva, quando ne cadrà uno, ci accorgeremo di che cosa stiamo facendo. Ora, io spero che ce ne accorgeremo prima, senza bisogno che ne cadrà uno, ma l'argomento è reale. Siamo in un'epoca in cui la valorizzazione, parola che meriterebbe una lunga analisi, si mangia la tutela e si mangia anche la conoscenza. Laddove abbiamo il dovere di tutelare, ma sapendo bene che la tutela non è un fine, il fine è la produzione di conoscenza. Allora, io credo che si possono spostare anche centinaia, migliaia di opere, purché il gioco valga la candela e purché questo sia dimostrabile e sia raccontabile e ci sia, diciamo, un'onestà di fondo e anche una capacità di critica libera. Perché naturalmente ci vuole anche una comunità che possa censurare i casi in cui questo non funziona. L'opera singola, appunto l'opera feticcio, quando si dice c'è un dialogo, davvero portare Jeff Koons in Piazza della Signoria un'opera pensata fatta vent'anni fa per un altro contesto, ma cosa dialoga? Cioè, questo luogo comune del dialogo, si dialoga se si parla la stessa lingua, per esempio parlando del contemporaneo se quella è un'opera site specific, fatta per quel posto con un artista che studia quel luogo, ci entra in comunione e prova a rispondere, poi magari non ci riesce, ma ci prova, ma prendere cose. Allora, bisogna, secondo me, giudicare caso per caso. la mostra di Caravaggio come tante altre mostre della storia che potremmo citare, anche in questo momento, io l'ho, come dire, l'ho scritto sul venerdì di Repubblica qualche tempo fa, la mostra di Ambrogio Lorenzetti a Siena è un grande esempio virtuoso di una mostra non solo utile, ma necessaria, perché restituisce la complessità di una figura, di una personalità artistica straordinaria, la restituisce finalmente tutta intera e poter andare a vedere quella mostra vuol dire riprendersi Ambrogio nel proprio canone mentale, come se, un grande autore lo riacquisissimo tutti, ma è chiaro che una mostra così non la potrai rifare per altri cent'anni, probabilmente, se se ne rifacesse un'altra Sombrogio Lorenzetti fra quattro anni sarebbe qualcosa che non funziona. Nelle conclusioni, Vincenzo, anche qua noi ci stiamo avviando alla conclusione, questa è la penultima domanda, poi farò un'ultima domanda a entrambi. Si fa un grande elogio della street art, leggo rapidissimamente, usata come strumento straordinario per alimentare in chi vive in un determinato quartiere senso delle radici, coscienza civile, rinnovata dignità, consapevolezza di appartenere a una comunità, l'arte si fa così, palestra del pensiero e delle immagini, gratuita e aperta a tutti, disponibile a trasformarsi in continuazione. Non viene più relegata dentro le pareti protettivi dei siti museali e di gallerie, ma abita ora in un museo ubiquo, diffuso, democratico, senza pareti, per dirla con Marrault. Vi è possibile accedere senza pagare nessun biglietto, le sale di questa dilatata pinotecauteca sono rappresentate da strade, da palazzi interamente affrescati e i cittadini diventano involontari critici d'arte. Domanda da 100 milioni di euro, ma come si distingue questa produzione bellissima che voi descrivete, ci sono molti casi a Roma, città in cui io vivo e lavoro, sono state fatte diverse guide su questa, da fenomeni di graffitari da 4 lire, cioè chi è quel critico cittadino non cittadino che distingue e dà la patente di arte che arreda invece dallo sfregio al quale continuamente assistiamo? La nostra idea è stata quella anche di pensare a una via d'uscita dal museo ma anche dalle mostre come eventi occasionali e pensare l'esperienza della street art non confondendola con il vandalismo che di volta in volta può accadere ma la street art in fondo è davvero un'esperienza che ha una valenza sia estetica che politica forte. Ha una valenza estetica perché indica l'esigenza di riportare il colore all'interno della città di dare una nuova identità soprattutto ai luoghi periferici a quelle estinte periferie di cui negli anni settanta parlava Pasolini la street art ha la valenza di una sorta di grande decalcomania nella quale chi lavora spesso opera insieme con i cittadini che sono all'interno di quei contesti e quello che si può verificare un caso esemplare in realtà non è un caso italiano è quello che ha sperimentato Edirama l'attuale premier albanese a Tirana Edirama è un artista quando era sindaco di Tirana in un momento nel quale Tirana era del tutto abbandonata si era rivolto a degli street artisti di mezzo mondo a cui aveva chiesto di intervenire all'interno della periferia di Tirana e da quel momento un luogo anonimo aveva acquisito un'identità cromatica non è soltanto un gesto di abbellimento di ritorno della decorazione o altro è un gesto politico è un gesto politico perché ha la funzione di intervenire su luoghi spesso abbandonati delle città di mettere in rilievo quei luoghi e anche la Valenza noi in realtà in filigrana c'è un riferimento lontano che è un testo che aveva scritto nel 23 Valéry sul problema dei musei nel quale Valéry dice a un certo punto quando passeggio per i musei mi sento sopraffatto dalla bellezza e avverto l'esigenza di uscire per le strade ecco perché la bellezza vera è tra le strade per le strade le strade che possono diventare essi sì un museo senza pareti noi citiamo appunto Malraux e questa è un po' la grande sfida cioè di pensare le città come un luogo ampio un luogo ampio nella quale la street art può avere una valenza di recupero del colore di recupero dell'immaginazione certo c'è un problema delicato che è relativo agli interventi barbarici vandalici e così via però visto che gli interventi di street art nascono da una concertazione con le comunità locali saranno le stesse comunità locali a giudicare il senso l'importanza di quegli interventi nel libro noi citiamo alcuni casi interessanti di interventi politici di street artisti che hanno aiutato a recuperare per esempio delle zone di Bari o di Palermo dove la street art davvero ha la forma di un riscatto sociale anche assolutamente quindi in quel caso la street art non va demonizzata anzi ha la funzione di evidenziare un problema di un contesto e di accendere i fari su quel contesto c'era soltanto mi permettevo soltanto di ritornare su un tema sulla questione prima che avevi sollevato perché noi qui stiamo parlando sembra che Tommaso ed io stiamo raccontando qualcosa quasi fuori dal coro in realtà il vero problema è che l'Italia è fuori dal coro internazionale cioè io vorrei che questo arrivasse con grande forza cioè l'Italia è un'anomalia nel sistema delle mostre internazionali cioè in nessun paese del mondo si ragiona si pensano le mostre nei grandi spazi pubblici come si pensano in Italia cioè non è che noi stiamo facendo un'operazione da conservatori in cui evochiamo il tempo che fu la cosa che diciamo è guardate che se voi provate a osservare quello che succede non solo negli Stati Uniti mitizzati ma in Francia o in Spagna o in Olando o in Inghilterra dove le mostre sono una sorta di università democratiche nelle quali si impara e si prova piacere a guardare le opere sono esperienze che si costruiscono nel tempo esito di lunghi anni di ricerca esiti di lunghi anni di campagne prestiti la mostra è il culmine è il punto di arrivo di un percorso in cui tra l'altro lo Stato l'istituzione pubblica ha la dignità di dettare le regole noi abbiamo nel nostro paese abbiamo completamente c'è stata una scelta pilatesca in cui le amministrazioni pubbliche hanno completamente abbandonato le proprie prerogative e la propria dignità nelle scelte delle mostre oramai ci troviamo di fronte a amministrazioni pubbliche che abdicano a società for profit come li chiamiamo Tommaso e Dio abdicano che non esistono al resto del mondo non esistono non esistono cioè abdicano non solo la scelta dell'artista la scelta del curatore e il modo in cui deve essere raccontato quell'artista cioè in nessun paese del mondo esiste una situazione del genere mi è capitato qualche settimana fa di parlare con lo staff curatoriale del Pompidù con il quale ho avuto un rapporto un dialogo e loro erano allibiti rispetto alla normalità cioè non riuscivano a capire come fosse possibile che grandi musei italiani avessero del tutto rinunciato e affidato a dei privati la progettazione scientifica curatoriale di una mostra ecco questo credo che sia il vero problema politico che sta dietro il nostro discorso è un problema serissimo noi qui facciamo finta che ovunque sia così no non è ovunque così è un nostro problema e non c'è nessuno che prenda atto di un'anomalia e che intervenga seriamente ecco avremmo bisogno di un pubblico che non sia in conflitto con il privato ma che riacquisisca una dignità innanzitutto culturale ed etica di immaginare non si faccia dettare i progetti i palinzesti culturali dai privati qui non si tratta di demonizzarli si tratta di richiamare che il pubblico richiami a sé una propria centralità di progetto culturale altrimenti davvero rischieremo di trovarci di fronte a mostre trasformate in una sorta di grande circo barrum di grande caravan serraio in cui semmai ci si può divertire ma poi alla fine si esce e non si è acquisita nessuna nuova conoscenza e quella mostra non ha lasciato nessuna traccia di sé vorrei concludere visto che il tema è contro le mostre vi chiederò naturalmente proprio come se fosse uno slogan giornalistico il massimo della sintesi possibile come dovrebbe essere una buona mostra uno slogan diciamo intanto mi piace dire e poi ti rispondo anche sullo slogan che per esempio a Milano ci sono delle mostre importanti le cose che studio i secoli che studio io le mostre curate da Giovanni Agosti sono mostre esemplari poi convivono a Palazzo Reale con mostre meno esemplari e qui vedi le filiere le società delle mostre o la ricerca universitaria o quando ci sono una mostra deve essere necessaria appunto deve essere necessaria e lo è quando ti fa capire qualcosa che prima non sapevi qualcosa che se non si fosse fatta quella mostra non avremmo sospettato e non avremmo imparato questo può avere a che fare con le attribuzioni con le cronologie con le interpretazioni ma deve giustificare il rischio che impone le opere d'arte il costo tutto quello che mette in gioco con la capacità dimostrabile di produrre conoscenze questo è secondo me il punto fondamentale che vale peraltro per tutta la politica culturale del nostro patrimonio noi abbiamo un articolo 9 della costituzione che è lo slogan vero la repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca tutela il paesaggio e il patrimonio non sono due cose diverse sono la stessa cosa si tutela per produrre lo sviluppo della cultura cioè non una cultura statica attraverso la ricerca se c'è ricerca e se c'è la capacità di condividere i frutti della ricerca con chi nella vita fa tutt'altro perché le mostre non servono a chi le fa Federico Zeri lo diceva in un modo molto pittoresco che ora non starò a ripetere ma lo diceva in modo molto forte le mostre non devono servire a chi le fa devono servire a tutti gli altri ecco questo forse potrebbe essere lo slogan le mostre giuste sono quelle che non servono a chi le fa ma a tutti gli altri grazie Tommaso Montanari Vincenzo Triolo nel libro noi parliamo di varie mostre che è un atto d'amore cioè che sia chiaro non è un non siamo due savonarola che si mettono lì e parlano male del sistema soltanto male del sistema delle mostre io citiamo in maniera positiva la mostra di Giotto che si è tenuta qui a Palazzo Reale Mario Bellini ha fatto un lavoro ineccepibile dal punto di vista dell'allestimento che è anche un atto di interpretazione citiamo Sirial Classic la mostra di Salvatore Settis per Fondazione Prada ne citiamo tante di mostre in chiave positiva bene se io dovesse risponderti a questo anche io ovviamente direi che una mostra deve essere necessaria devi avere almeno la motivazione di svelarti qualcosa che non sapevi fino a quel momento dell'opera di un artista di una stagione culturale di un oppure lavorare su nuove attribuzioni svelarti lati inattesi di un artista cioè una mostra deve consentire un avanzamento della conoscenza su un'opera un periodo o l'invenzione di un artista se la mostra non ha queste ragioni probabilmente la mostra è del tutto svuotata di senso alle diecimila mostre fatte in Italia probabilmente bisognerebbe rispondere con un sano equilibrio arrivando a una a una estrema razionalizzazione delle mostre in cui una mostra lasci qualcosa anche a chi li ha viste moltissime delle mostre io credo che non bisogna non sia mai necessario distinguere tra la passeggiata in una mostra e la passeggiata all'interno di un mall una delle obiezioni che qualcuno mi ha fatto ha detto beh ma almeno le persone vanno alle mostre io non credo che sia opportuno distinguere tra la passeggiata in una mostra e la passeggiata in un mall ma tra una mostra ben fatta e una mostra mal fatta questa credo che sia la vera grande distinzione in realtà noi citiamo a un certo punto mi fa piacere riprenderlo un passaggio di Georges Henri Rivière che è il fondatore del museo delle arti e delle tradizioni popolari di Parigi scrive delle parole che vorrei citarvi perché credo che raccontino benissimo le scrive nel 1937 ma raccontino benissimo quello a cui noi pensiamo dice il successo di un museo di una mostra non si valuta in base al numero dei visitatori che vi affluiscono ma in base al numero dei visitatori ai quali ha insegnato qualcosa non si valuta in base alla sua superficie ma la quantità di spazio che il pubblico avrà percorso traendone un vero beneficio questo è il museo se non possiede tali caratteristiche è una sorta di mattatoio culturale grazie grazie a voi tutti per averci seguito grazie a Tommaso Montanari a Vincenzo Trioni a Leinaudi alla Fondazione Corriere della Sera buona serata a tutti grazie a Tommaso grazie a Tommaso